L'Italia e Francia sono due nazioni legate, sono due nazioni importanti, centrali, protagoniste in Europa che hanno bisogno particolarmente in un momento come questo di dialogare perché molti e convergenti sono gli interessi comuni. Noi saremo chiamati nelle prossime settimane a prendere decisioni che avranno inevitabilmente conseguenze importanti sul futuro dell'Europa, sui rapporti transatlantici, sulla proiezione internazionale del nostro continente ed è essenziale che Roma e Parigi lavorino, sia a livello bilaterale che a livello multilaterale Unione Europea, Nato, G7, del quale l'Italia assumerà la presidenza il prossimo anno e che per noi diventa ad esempio strategico. E' questa amicizia che mi interessa prima di tutto, talvolta ci possono essere delle controversie, dei disaccordi, ma in un quadro sempre rispettoso perché si scrive in una storia più grande e profonda di noi. Vi chiediamo anche però parole chiare sulla indisponibilità a non utilizzare le risorse del PNRR e dei fondi di coesione per la produzione di munizioni e di armamenti. Il governo Meloni non ha alcuna intenzione di poter utilizzare le risorse del PNRR per finanziare interventi che possano finanziare le armi. Il tema o l'idea di avere un ritardo determinato dalla modifica della governance non trova un riscontro nel merito delle questioni. Combatto con altrettanta forza contro i rigurgiti di centralismo. Il PNRR è un esempio classico della ottusità burocratica del nostro paese. Stanno per cominciare gli esami di Stato per la maturità. C'è chi tra voi proseguirà negli studi universitari, chi invece sceglierà magari di abbracciare un'esperienza lavorativa. Qualsiasi sia la scelta che farete, ricordate che voi siete i padroni del vostro destino. Ricordatevi sempre, voi valete tanto. Ricordatevelo oggi e ricordatevelo negli anni a venire. Un ringraziamento particolare mi è dovuto anche a tutti i vostri insegnanti perché senza di loro questa maturità come questa scuola non sarebbe stata mai possibile. Buongiorno, buongiorno cari telespettatori. Allora, diciamo, sfruttiamo le immagini e le parole finali della nostra copertina. Oggi la prova, anzi sono cominciati gli esami di maturità per oltre 500.000 studenti. Siamo tornati alla formula pre-pandemia, pre-covid, con due prove scritte, una prova orale, un colloquio. E oggi si comincia come tradizione dalla prova di italiano. Poi vi daremo anche conto delle tracce che sono state sottoposte agli studenti. Poi, come avete visto, c'è tutta la partita che riguarda Italia e Francia. Oggi, insomma, i giornali hanno molti titoli. Si parla di tregua, di disgelo, di intesa, di finta pace. Tutto questo per raccontare il faccio a faccia di ieri tra Meloni e Macron. Sicuramente sulla questione, una delle questioni più spinose, quella dei migranti. I due leader hanno concordato che bisogna rafforzare i controlli alle frontiere esterne, come si dice, dell'Unione Europea. C'è un'intesa anche sulle regole che riguardano il nuovo patto di stabilità, che sia Italia che Francia vorrebbero, diciamo, un po' diverso, insomma, meno stringente. C'è poi tutta la partita che riguarda l'Ucraina, con Meloni e Macron, che ribadiscono il pieno appoggio, ovviamente, a Kiev. E sottolineano anche che è già operativo lo scudo antimissile Samp-T, che è franco-italiano. Insomma, questa quindi è stata una visita, vediamo, adesso poi ne discuteremo, molto importante per quanto riguarda Giorgia Meloni. Poi c'è tutta la partita che riguarda le tasse. Hanno fatto discutere le parole del Ministro Nordio l'altro giorno a proposito degli imprenditori onesti, che seppur appunto onesti, insomma, rischiano comunque qualche sanzione. E ieri c'è stato il Capo dello Stato che è intervenuto, un richiamo ricordando che pagare le tasse è un dovere di tutti. E poi ci sono novità dalla delega fiscale, meno tasse per i lavoratori dipendenti, diciamo, ci dovrebbe essere una sforbiciata riguardo i premi di produttività, gli straordinari e forse anche le tredicesime. Insomma, vedete, molti temi di cui parlare. Lo facciamo oggi con Sara Manfuso della Notizia, bentornata a Sara. Buongiorno, grazie. Sarina Biraghi della Verità. Ciao Sarina. Buongiorno. Per la maggioranza c'è con noi l'On. Savero Romano di Moderati. Bentornato. Tra poco arriverà Arturo Scotto del Partito Democratico e poi, a proposito di scuola, più tardi ci collegheremo anche con Rino Di Meglio, che è il coordinatore nazionale della Gilda Insegnanti. Allora, intanto vi chiedo subito, com'è andata questa visita all'Eliseo, Sarina? Premettendo che non è necessario che Macron e Meloni si siano simpatici tra di loro, questo non è assolutamente necessario, è indispensabile però che abbiano delle buone relazioni come rappresentanti di due stati molto importanti in Europa. E io credo che ieri il legame immediato, quello che ha sancito, il legame che c'è necessario, è proprio questa parolina magica, questo samti, questo strumento che Italia e Francia hanno messo in piedi insieme e che è di supporto nella guerra in Ucraina contro la Russia. Quindi questo legame è supportato da questo, ma come tutti e due hanno detto, c'è una relazione economica, culturale, diplomatica su grandi temi per cui devono assolutamente essere uniti, come Macron ha sottolineato, come i nostri paesi sono sempre stati. Perché non dimentichiamo, è abbastanza recente anche il trattato del Quirinale che aveva sancito quest'unità di intenti poggiata soprattutto sull'aspetto industriale ed economico. Quindi insomma, ieri lo hanno sancito e grandi temi, al di là dell'appoggio all'Ucraina, mi pare che questa visione comune di tutelare i confini ma di essere razionali e solidali nei confronti dei flussi migratori sia una necessità per tutti. E Macron ha riconosciuto che in effetti l'Italia è il paese di primo arrivo, quindi ha bisogno di maggiore attenzione. Non dimentichiamo poi che ieri c'era questa presentazione della candidatura per l'Expo 2030, su quello forse Macron impegniamoci a portare la storia nel futuro. Come ha detto la Meloni, forse le disponibilità economiche dell'Arabia Saudita sono più appetitose per la Francia, quindi su questo non ci metterei la mano su fuoco. Vediamo, la decisione sarà a novembre, adesso è cominciata la campagna, però insomma il primo approccio, ora dire che è una pace finta, io dico che è una pace perché appunto sono tutti e due, come ha sottolineato la Meloni, non sono due ragazzini all'asilo. Sì, insomma sono due capi di governo, non è che possono giocare. Saranno fuso le nubi, si sono diradate o no? Io qualche dubbio ce l'avrei, non sono diciamo per la tesi della pace finta, però non la vedo così in discesa perché certamente sono due capi di governo e non bambini che si fanno delle scaramucce, però anche la tenuta interna del consenso nei propri paesi diventa essenziale per quelli che sono anche due leader partiti, cioè naturalmente che rappresentano il paese tutto. Il tema dell'immigrazione è e sarà sempre uno dei temi coscenti, diciamo proprio dell'Europa stessa, in particolar modo nel rapporto Italia-Francia, perché è inutile dire, noi abbiamo questo nuovo testo che è stato approvato in Commissione Europea, che poi dovrà chiaramente affrontare tutto l'iter al Parlamento Europeo con i rischi del caso, ma è un testo che in qualche modo non rivede il trattato di Dublino che continua a esistere. Quindi noi comunque saremo esposti in quanto paese frontaliero sempre a dei flussi migratori che andranno regolamentati, disciplinati e che dovranno tener conto naturalmente dei diritti di vita delle persone che cercano un'alternativa migliore alla povertà e alla guerra nell'Europa e naturalmente anche in Italia. Però la Francia insomma avrebbe dovuto e deve farsi carico delle sue responsabilità e sappiamo che in passato questo non è sempre accaduto. Poi certamente è importante trovarsi su obiettivi strategici, si parlava dell'economia, si parlava del sostegno all'Ucraina che non è del secondario sicuramente, però ripeto andrà misurata sul campo. Buona notizia è il fatto che ci sia un accordo intenzionale su quella che è una revisione del patto di stabilità in favore di misure che siano meno draconiane e meno pesanti per gli stati membri, perché naturalmente diciamo paghiamo lo scotto di politiche espansive precedenti, però adesso già con tutte le tematiche legate all'inflazione, alla contrazione del potere d'acquisto, l'idea di doversi caricare altri oneri è davvero difficoltosa. Pertanto al piano che ha annunciato Ursula von der Leyen, 50 miliardi in 4 anni per l'Ucraina, adesso dico tanto per capirci, cioè lo sforzo anche economico e finanziario per fare l'Europa e quindi i singoli paesi è molto forte. Allora, tardissimo, devo andare in pubblicità, sono in un ritardo, scusami se brutalmente ti ho interrotta, riparto poi da Saverio Romano, tra poco. Allora, vado a Saverio Romano, intanto però vi do un paio di notizie. La prima riguarda, prima parlavamo del tema migranti al centro appunto del colloquio anche tra Meloni e Macron, è affondato un barchino a largo di Lampedusa, 44 persone sono state salvate, ci sono tre dispersi, sono intervenuti nella motovetta della guardia costiera. Poi oggi a Roma c'è il presidente brasiliano Lula, Lula vedrà Papa Francesco, si parlerà di Ucraina, vedrà il presidente Mattarella, vedrà la premia di Giorgio Meloni e vedrà, lo abbiamo appena saputo, in mattinata anche la segretaria del Partito Democratico, Ellie Schlein. Eccomi, allora arrivo da Saverio Romano, possiamo augurarci, perché credo che tutti se lo augurino, dei rapporti meno tesi tra Roma e Parigi, rapporti su cose concrete o no? Quello tra Roma e Parigi, tra l'Italia e la Francia è ricorrente come tema, in ordine dei rapporti. L'Europa si è mossa sempre lungo due direttrici, quella della solidarietà e quella dell'interesse. Nel rapporto con la Francia noi scontiamo il fatto che per lungo tempo è prevalso l'interesse e gli accordi che in sede europea la Francia ha chiuso con la Germania. Io ho dei ricordi nitidi e particolari. Durante la mia presenza in Consiglio dei Ministri Europei, lei ha fatto il Ministro dell'Agricoltura, ricordiamolo, sì. Non c'era un solo dossier che non li trovava uniti a fare delle battaglie insieme, perché ovviamente avevano degli interessi comuni. soltanto in un'occasione fumo in grado di rompere questa alleanza, quando volevano togliere le cosiddette quote sugli impianti vitivinicoli. In quel caso ovviamente la Francia era alleata con la Spagna, era alleata con noi, con l'Italia, perché avevamo un interesse comune. Ma la Francia ha sempre fatto prevalere gli interessi rispetto alla solidarietà e anche nel rapporto con noi è dimostrato dal fatto che su un tema importante come quello della rappresentazione al mondo della cultura europea attraverso la candidatura di Roma ancora nicchia. Vero, il nostro Paese è in grande ritardo, il Presidente Meloni sta facendo di tutto per colmare questo ritardo, perché se in Argentina, ad esempio, io sono stato là circa due mesi fa, sono pronti a dare l'appoggio all'Arabia Saudita e noi sappiamo quanti italiani ci sono in Argentina, come la presenza italiana sia importante, vuol dire che gli arabi si sono mossi per tempo e meglio rispetto al nostro Paese per creare accordi e far sì che prevalga la loro posizione. Per quanto riguarda, e questo è un aneddoto che voglio raccontare, per dire come i rapporti sono sempre stati un po' tesi, poi ci si raccorda, ho visto quel salone dove ci sono stati gli incontri, io ero là perché c'era il G20 dei Ministri dell'Agricoltura, a un certo punto fui chiamato da Sarkozy, non mi aspettavo questo invito riservato e mi chiese di intervenire, di essere l'autore di un messaggio verso il Presidente Berlusconi, perché allora Binismaghi non si era ancora dimesso dal board della BCE e lui chiedeva al nostro governo di intervenire affinché Binismaghi si dimettesse, sostenendo che lui aveva dato l'appoggio alla elezione di Mario Draghi e quindi chiedeva il componente francese. E lo fece con toni abbastanza assertivi rispetto alla sua posizione. Poi io rappresentai questo al Presidente Berlusconi, ci fu una telefonata, le cose si chiarirono, perché il Presidente Berlusconi non aveva, come dire, il potere di fare dimettere Binismaghi, ma questi francesi non lo capivano, perché poi c'è un linguaggio diverso in funzione anche il Presidente Macron è un Presidente diverso al nostro Presidente del Consiglio, per essere molto chiaro. Racconto quest'aneddoto per dire che è ricorrente ogni volta questo tema di tensione che poi si appiana sui migranti e chiudo. Il Presidente Berlusconi sta facendo un lavoro molto serio, è stata già due volte in Tunisia, adesso ha visto Macron, io credo che stia lavorando anche con la Grecia e la Spagna, che sono gli altri due paesi molto interessati, perché comprende perfettamente, sta lavorando lungo questa strada, che il tema non può essere italiano o dei paesi di prima accoglienza, il tema o si risolve tutti insieme o non si risolverà mai, perché non possiamo fermare l'acqua con le mani, ed è come l'acqua quella che arriva in Europa, bisogna mettere in piedi una strategia che sia seria, concreta, e che possa fare in modo, non soltanto di fermarla, questa immigrazione clandestina, ma evitare anche le tanti morte in mare, che sono quelle che ci addolorano di più. Scotto, vediamo un po' Scotto che pensa di questa visita a Parigi, di Giorgia Meloni, è andata bene, è andata male, è in chiaroscuro, com'è? Ma intanto mi pare che la Francia, come sempre, è l'oggetto della propaganda di tutte le destre, vorrei ricordare lo scontro alimentato all'epoca da Salvini rispetto all'immigrazione e non solo. Per fortuna si varò un trattato, il Quirinale, che ha un valore enorme e che è stato poi siglato in maniera definitiva, grazie soprattutto alla mediazione del Presidente Mattarella lo scorso anno. I rapporti tra Italia e Francia sono spesso, diciamo, come dire, il vettore principale del vittimismo italiano, su cui si alimenta e cresce la propaganda del Governo Meloni. Anche su questo tema dell'immigrazione, me lo lasci dire, questo attivismo della Presidente del Consiglio, forse rivelatorio del fatto che hanno scoperto che c'è chi è più sovranista di loro. E ora capiscono che forse va cambiato il trattato di Dublino, che forse non si può scaricare tutto sui paesi di prima accoglienza, dopo che per anni hanno bloccato la riforma. La destra è stata la grande assente da questo dibattito. Aggiungo, mi auguro che, diciamo, da questo punto di vista non ci sia solamente un approccio, definiamolo così, securitario, lo dico al collega, è impossibile fermare, come diceva lui, l'acqua con le mani. Sono processi lunghissimi, processi enormi, processi di grande rilievo internazionale. E però, tuttavia, c'è un dato. Lui parlava del rapporto con la Grecia. Non vorrei che fosse, diciamo, un rapporto concorrenziale verso il peggio, visto che stiamo ancora aspettando cosa è successo a Cutro, realmente, e vorremmo capire anche cosa è successo in Grecia, dove c'è stata una tragedia enorme e dove probabilmente le responsabilità, diciamo, di questa vicenda stanno anche in capo a una certa distrazione dei governi e una profonda disumanità nel trattare la grande emergenza migratori. Oh, questo allora è lo scotto pensiero sulla questione migranti, no? Perché quando Arturo Scotto diceva si sono accorti che c'è qualcuno più sovranista di loro. Adesso noi non possiamo, credo che tutti in questo studio possiamo concordare sul fatto che, si è detto tanto dell'Europa, la Francia è sicuramente uno dei paesi più sovranisti d'Europa. Lo abbiamo visto anche da un punto di vista, no? Di quando l'Italia ha tentato di... Ha il culto del sovrano. La Francia ha il culto del sovrano. Ha il culto del sovranismo, no? Poi uno il sovranismo lo può intendere buono o cattivo a seconda delle proprie opinioni, ma non c'è dubbio che, insomma, ricordiamo quando abbiamo tentato di acquisire i cantieri francesi, i cantieri navali, che cosa è successo? L'operazione non si è conclusa, i francesi in Italia, credo, abbiano fatto shopping ogni tipo, no? Potrei dirle che, per esempio, a proposito di sovranismo, colpisce particolarmente che, due settimane fa, il principale sindacato metalmeccanico italiano, la FIOM, si è dovuta recare in Francia per chiedere qualche informazione sui piani industriali di Stellantis, visto che noi abbiamo accettato la fusione con Peugeot e fondato Stellantis, la famiglia Elcan ha deciso sostanzialmente di deitalianizzare la Fiat, l'ex Fiat, e il governo mi sembra abbastanza distratto rispetto al destino degli stabilimenti principali di questo paese, perché, come è noto, l'automotive è uno degli ultimi settori industriali strategici di questo paese, mentre la Francia siede comodamente nel Consiglio d'amministrazione di Peugeot e dunque i Stellantis. Dunque, forse, ci sarebbe da rivedere qualche scelta e forse anche qualche iniziativa in più da parte del governo. Io penso che se il governo deve rispondere anche delle scelte della famiglia Elcan, siamo arrivati al punto, il governo potrebbe assumere un'iniziativa sull'automotive, visto che rivendica in ogni passaggio la preferenza nazionale. Ma quello è un altro discorso, ma le scelte della famiglia Agnelli barra Elcan da tempo sono state magari assecondate da altri governi, non da questo governo. Mettiamo le cose in chiara. C'è un problema però, ci sono delle serie questioni che riguardano... Altrimenti sembra che tutto si debba risolvere attraverso una scelta di questo governo che è arrivato sei mesi fa e che è certo, però voglio dire ci sono dei... Non certamente questo perché non passa dalle mani del governo. Però degli aspetti di politica industriale, mettiamola così, più generiche ci sono. Io penso tutta la situazione all'ex Silva di cui non ho... Leggo notizie continuamente, ma non ho capito che cosa si voglia fare delle acciaierie italiane, così si chiamano. Presidente Meloni. Cioè, in sei mesi si è trovato in mano dei dossier importantissimi e li sta affrontando con serietà e competenza. C'erano risorse e una scelta che era stata già messa in campo dal governo Draghi che riguardava sostanzialmente il superamento dell'attuale multinazionale che dirige l'ILVA. Una sorta di rinazionalizzazione. Il governo dei sovranisti ha scelto sostanzialmente di rinviare la palla in avanti. E oggi la crisi dell'acciaio, come l'è noto, sta determinando un'allarme molto serio sul terreno dei posti di lavoro. Addirittura c'è chi calcola rischi di oltre 100.000 disoccupati. Allora, prima di andare in pubblicità, Sarina... No, prima volevo dire che comunque questo riavvicinamento, quello che c'è stato ieri tra i due, questo feeling apparente almeno, è anche un segnale, secondo me, per la Germania. Cioè, è un campanello. Ci ricordiamo che già quando... Che non è più la Germania a cui faceva riferimento Romagna. Che non è la Germania di allora, appunto. È completamente cambiata. È un avviso a Scholz che ci sono due paesi come l'Italia e la Francia. L'Italia attualmente, dal punto di vista occupazionale, di PIL, è il primo paese in Europa e quindi c'è questa nuova unione. Ma anche, secondo me, un segnale di Macron anche al suo interno. Non dimentichiamoci i problemi politici che ha Macron al suo interno. Quindi un segnale anche alla Le Pen, alle posizioni della Le Pen, perché lui è più vicino se si avvicina alla Meloni è come distanziarsi da quella destra lepenista che non è quella della Meloni. Quindi ci sono anche dei segnali politici importanti da questa visita e da questa bilaterale di ieri, ma sicuramente importanti per noi dal punto di vista economico e dei grandi temi. Come dicevamo prima, c'è un Consiglio europeo la settimana prossima, c'è V-News a metà luglio, cioè ci sono incontri che saranno veramente importanti. su temi cruciali, giustamente lo ricordavi. E il nuovo patto di stabilità è uno di quelli, tanto per capirci. Esatto, il nuovo patto di stabilità sta tutto lì, insomma. Vado in pubblicità, poi riattacchiamo con un altro tema molto divisivo che è quello delle tasse. A tra poco. Se l'imprenditore onesto decidesse di assoldare un esercito di commercialisti dicendo a loro vogliono vivere sonni tranquilli, non ci riusciremo. Perché comunque qualche violazione quantomeno formale verrebbe trovata. Perché? Perché le norme si contraddicono le une con le altre e magari ottemperandone una necessariamente devi violarne quelle altre. Sono preoccupata dalle dichiarazioni del Ministro Nordio che legittimano l'evasione fiscale. Ci faccia capire, Ministro, se la linea del governo Meloni è quella di usare la clava sui poveri e fare le carezze agli evasori. Il Ministro Nordio ha di fatto evidenziato uno dei problemi attavici del sistema tributario nazionale. Farsi pensare che il DPR 917-86 il test unico delle imposte dei redditi dalla sua emanazione fino ai giorni nostri ha subito oltre 1500 modifiche così come il DPR 633-72 in materia di IVA oltre 1000 modifiche così come il DPR 673 oltre quasi oltre 600 modifiche. Il risultato di tutto ciò è una normativa elefantiaca spesso confliggente di difficile interpretazione che pone in difficoltà non solo noi professionisti noi commercialisti nello svolgere un'attività di assistenza nei confronti dei nostri clienti ma anche l'amministrazione finanziaria la stessa guardia di finanza nell'attività di controllo ex post. Inoltre questa complicazione normativa favorisce i comportamenti evasivi e delusivi i comportamenti opportunistici di chi gioca in questa difficile interpretazione delle norme. La legge delega fiscale che ha tra gli obiettivi quello della semplificazione potrà portare dei benefici? Credo proprio di sì anche perché uno dei punti cardine proprio della legge delega fiscale è stato quello di porre in esse una riorganizzazione del sistema normativo tributario nazionale. Riorganizzare significa non solamente fare una riorganizzazione di carattere logistico cioè coordinare tra di loro le varie norme ma soprattutto una riorganizzazione sul piano logico interpretativo cioè rendere le norme più chiare perfettamente coordinate tra di loro. Abbiamo visto anche nell'ambito dell'applicazione dei bonus sui quali oggi l'amministrazione finanziaria è impegnata nel recupero anche di somme regolarmente erogate a favore del cittadino contribuente ma molte delle quali sono anche frutto di una interpretazione differente rispetto a quella che si è data all'atto dell'applicazione della norma. Uno dei temi in cardine della legge dell'evoca fiscale è rendere il nostro paese il nostro sistema tributario più attrattivo che significa far sì che imprenditori e investitori esteri vengano a investire in Italia. Un sistema tributario complesso un sistema tributario in alcuni aspetti compligente certamente ha un effetto dissuasivo rispetto a chi vuole investire nel nostro paese. Allora riparto da Scotto per chiedere a Scotto ma che cosa ha detto di così scandaloso il ministro Nordio l'altro giorno? Intanto il ministro Nordio ripete cose che ha detto la sua Presidente del Consiglio in un comizio di qualche giorno fa quando ha parlato di pizzo di Stato queste sono dichiarazioni in bocca a un rappresentante istituzionale tecnicamente eversive e mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo ci troviamo di fronte a chi dovrebbe governare il paese e invece liscia il pelo a evasori fiscali e a chi nel corso degli ultimi anni ha reso questo paese più povero e più diseguale vede ieri l'ufficio il bilancio della Camera ha tirato fuori i dati sul taglio del reddito di cittadinanza emerge un quadro che produrrà molto probabilmente oltre mezzo milione di poveri in più anziché risolvere i problemi dei poveri Cristi favoriscono come sempre quelli che le tasse non le pagano mentre in questo paese c'è una categoria che le tasse le paga sempre sono i lavoratori dipendenti e pensionati a cui questo governo non dà nulla sentire parlare di eversione all'onorevole Scotto mi pare veramente abbondante mettiamolo abbondante no 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 vero mi dimostro il contrario che un presidente è il consiglio che definisce le tasse pizzo di Stato non è eversivo e poi dopo ne parliamo quello che ha detto il presidente Meloni è avvertito nella stragrande maggioranza degli italiani che non ne possono più di una pressione fiscale disumana e anche di queste regole tanti di loro non riescono nemmeno a pagare il giusto per la semplice ragione che non si raccapezzano più tant'è che io sto seguendo la delega fiscale in commissione abbiamo appena iniziato ieri la delega fiscale che diventa una riforma epocale non si fa da tanti anni un intervento così importante e complesso sulla materia fiscale ha quattro punti ieri abbiamo esaminato il primo che è quello dei principi i principi le imposizioni il contenzioso i testi unici riguarderà come dire a tutto tondo il sistema fiscale italiano stiamo dicendo una cosa semplice A dobbiamo ridurre gli appuntamenti con il fisco B il fisco non può essere il nemico degli italiani deve essere l'amico degli italiani deve spiegare agli italiani come deve pagare le tasse ma che vuol dire questo lo vogliamo tutti onorevole è un altro discorso lo vogliamo tutti ma noi lo stiamo facendo però voi dovreste promuovere la legalità e il rispetto delle regole non contrapponendo ma non bisogna decontestualizzare non si tratta di contrapporre stiamo dicendo semplicemente che il tema è così importante ed avvertito dagli italiani e noi abbiamo la responsabilità di porre rimedio alle questioni che abbiamo davanti perché nel momento in cui gli italiani gli imprenditori le famiglie hanno difficoltà chi arrivare a fine mese chi a mantenere in piedi un'azienda e questo perché hanno anche un carico fiscale e hanno delle sanzioni importanti bisogna porre rimedio però posso dire una cosa scusi Andrea perdona posso intervenire su questa cosa perché scusi concludo la delega fiscale non è una legge di immediata attuazione lo sappiamo perché poi ci saranno i decreti legislativi ci siamo dati tempo due anni due anni il governo si è dato tempo due anni entro l'anno avrà luce questa delega e poi da gennaio dovrebbero partire i decreti legislativi le prime cose che saranno fatte vanno in quella direzione e cioè decespugliare decespugliare è impossibile avere 600 appuntamenti col fisco senza che si riesca a reale ma in vita non mantenerli hanno rispettato questo è un buon inizio però poi c'è un problema lei lo citava prima lo citiamo tutti che è quello della pressione fiscale cioè da quello che io capisco visti i tempi non sarà facile abbassare le tasse agli italiani che è l'altro grande tema no? dobbiamo provarci perché ieri hanno preso la prima decisione scusa negli ultimi tempi cosa è accaduto? poiché non c'erano risorse noi abbiamo fatto un'operazione no intendo dire chi li ha fatte io non c'ero un'operazione che è quella di dire vabbè tu ti lamenti credito d'imposta quell'altro si lamenta credito d'imposta e questo credito d'imposta nel tempo è cresciuto in maniera tale che tanti non pagano le tasse perché hanno il credito d'imposta in compensazione chiaro? e noi abbiamo tante detrazioni tante deduzioni io personalmente sarei per un sistema all'americana come si suole dire detraiamo tutto no? non si può perché nel nostro paese si pagano le tasse anticipatamente gli italiani lo sanno noi a novembre paghiamo quello che dovremmo guadagnare l'anno successivo e quindi non si può fare perché ci sarebbe un ammanco di cassa e allora questa legge delega cosa prevede? lasciando invariati i temi della progressività perché noi siamo ripetiamolo per la progressività chi ha di più deve pagare di più su questo non c'è dubbio in Costituzione l'abbiamo ribadito a fra ieri ma cosa vogliamo fare? in modo che ci siano soltanto due appuntamenti chiari tante detrazioni e deduzioni inutili ma che diventano appuntamenti negativi vengono messi da parte e dare realmente risorse a chi ne ha di bisogno ma in che modo non ho capito bene non vi occupate dei salari non vi occupate del lavoro il tema diventa adesso quello di strizzare l'occhio a coloro che possono evadere no le sto dicendo un'altra cosa siccome i temi però sono connessi tra di loro no? perché alla fine tante persone noi vogliamo come abbiamo iniziato a fare ad esempio a tagliare il cuneo fiscale non è che noi stiamo dicendo cose che non abbiamo fatto già questo governo ma lei capisce che le cose stanno inizio diamo i soldi alle imprese che assumono depassiamo chi rinveste depassiamo chi rinveste inziché chi fa utile è goderseli anche giusto goderseli ma chi investe deve avere un vantaggio di più ma io non riesco a capire una cosa se posso posso velocissimamente no a me la cosa che non convince affatto è come il tema del riordino fiscale di dunque tutte le misure che vanno certamente semplificate possa poi fare il paio con delle affermazioni che pronunciate da figure istituzionali politiche che rappresentano il paese sono veramente devastanti fortuna che abbiamo il presidente Mattarella che ci ricorda cosa sia la Costituzione quale sia la necessità del pagamento delle tasse di ritorno in termini di servizi sociali e quindi per fortuna che c'è tutto questo e poi c'è la grande questione ma gli italiani vogliono pagarle ma certamente infatti questo è il punto per quello dovete evitare allora su questo devo mettere un gong Paolo buongiorno buongiorno ancora cielo sereno poco nuvoloso queste nuvole a ovest arrivano però salgono verso nord al momento l'ingresso sull'Italia è diciamo pagano pagano un biglietto si risolvono perché questo è l'effetto dell'alta pressione quindi per oggi cosa ci possiamo aspettare cielo sereno poco nuvoloso vediamo la previsione ma insomma è simile agli altri giorni sulle zone direi al di là delle zone alpine centro orientali qualche fenomeno anche intenso c'è però al momento le Alpi segnano proprio questa questa distanza questo questo confine giornata di domani ancora tempo stabile ma forse qualche nuvola vedete il grigio che compare fra centro e nord e poi guardate sulla Francia il maltempo che tocca si appoggia ma non supera le zone alpine ancora deboli piogge però dai e dai qualcosa succede perché nella giornata di venerdì questi fenomeni saranno del pomeriggio ma cominciano a entrare al nord anche in maniera piuttosto marcata sulla parte di nord-est qualche fenomeno intenso sull'appennino tosco-emiliano e quindi è pioggia che va acqua che va anche sulle zone dell'Emilia Romagna e poi all'estremo sud qualche fenomeno quindi è più movimentato il tempo e soprattutto le temperature che ancora saliranno nelle prossime 48 ore da venerdì verso il fine settimana saranno invece in discesa anche abbastanza marcata a tornare nella nella norma quindi niente non si può parlare non si può parlare di freddo una foto particolare le famose nuvole lenticolari che ci manda Davide questo è l'Etna ovviamente perché c'è sempre questo gemellaggio e questa specie di astronave ha anche due piccole astronavi sopra una specie di shuttle le astronavi di servizio all'impiego i tender dell'astronave vediamola così tu che ami il linguaggio delle barche va bene grazie a Paolo sotto corona qualche minuto e torniamo qui non so se c'è già con noi collegato Rino Di Meglio chiedo no tra poco avremo Rino Di Meglio il coordinatore nazionale Gilda Insegnanti Allora sulle tasse diciamo possiamo non so se vogliamo aggiungere qualcosa ma è un argomento che meriterebbe un'intera puntata mentre vado a salutare Rino Di Meglio dicevo coordinatore nazionale Gilda Insegnanti buongiorno Di Meglio aspetti che non sentiamo l'audio io non lo sento mi sente adesso? molto lontano vediamo se dal diciamo ecco meglio meglio vede come subito prontamente abbiamo sistemato l'audio senta intanto dobbiamo salutare con favore il ritorno degli esami di maturità come erano prima del covid beh certo tutto ciò che ci riporta la normalità non possiamo che salutarlo con favore diciamo che si riprende finalmente la vita normale oh è questo diciamo già mi pare importante le volevo chiedere un'altra cosa ci sono un paio di temi su cui mi piacerebbe sentire la sua opinione nel giorno appunto degli esami dell'inizio degli esami di maturità intanto c'è un tema nelle scuole e gli episodi di cronaca insomma di tutti di quest'ultimo periodo ce lo dimostrano ampiamente di violenza e aggressioni nelle scuole come si fronteggia di meglio beh guardi intanto non è solo nelle scuole diciamo che sembra che tutta la società nel dopo covid sia diventata un po' più violenta perché lo vediamo anche succede nella sanità succede anche addirittura agli psicologi quindi c'è una certa esplosione di violenza che va affrontata intanto rendendo consce anche le persone e le famiglie che la scuola è un'istituzione e che quindi va rispettata cioè questo è il primo lavoro culturale che dobbiamo fare tutti insieme compresi i mezzi di informazione dobbiamo fare opera di convinzione e persuasione sul fatto che occorre avere un certo rispetto per tutte le istituzioni che lavorano per tutti i cittadini e poi diciamo quelli che vediamo sono gli episodi più violenti ma diciamo che c'è tutto questo deriva anche dalla questione culturale molto spesso i genitori al giorno d'oggi sono diventati i sindacalisti dei figli perché poi c'è il raro per fortuna rari episodi di studenti che sono violenti ma molto spesso sono le famiglie a essere violenti non gli studenti e quindi c'è questo un problema un problema però lo ripeto secondo me di carattere culturale e la società nel suo insieme che deve farci fronte no guardavo Serena Piraghi e Sara Manfuso non so se volete fare una domanda di meglio perché no perché mi chiedevo se il ragazzo che aggredisce l'insegnante il collegio dei docenti lo boccia e i genitori fanno ricorso beh sicuramente serve un cambio culturale perché i genitori come diceva di meglio non possono fare i sintacalisti ma soprattutto bisogna ritrovare quel rispetto per i luoghi dove si sta dove si vive per i contesti a scuola come appunto al pronto soccorso come perché insomma così perde di valore sia la punizione che il gesto perché se uno fa ricorso magari rischia anche di vincerlo e allora pure l'accoltellamento è ridicolo certamente sono d'accordo ma ricordiamoci che le agenzie educative per eccellenza arrestano sempre la scuola e la famiglia quindi se non c'è una sinergia virtuosa un patto esatto un patto i cui effetti virtuosi devono poi ricadere sul futuro adulto quindi sul minore che sta affrontando il percorso scolastico quindi questo è inevitabile però Andrea una cosa che vorrei dire l'essenzialità e la centralità dell'introduzione nel percorso scolastico anche dell'educazione digitale perché francamente quando parliamo di questi ragazzi e spesso sentiamo dire che hanno dei comportamenti violenti senza demonizzare lo strumento che può essere il telefonino piuttosto che il tablet dunque internet dobbiamo metterli invece in condizioni di conoscere lo strumento di padroneggiarlo e di comprendere anche i rischi che corrono perché spesso molti degli atti violenti ma abbiamo visto i fatti di cronaca anche in questi giorni tristissimi affondano le proprie radici in un uso scorretto non mediato appunto da capacità critica di uno strumento ripeto non da demonizzare ma che può essere altamente pericoloso e la scuola deve aiutare anche in questo lo strumento viene usato dai bambini di 4 anni in casa quindi arrivano a scuola e qui c'entra la famiglia poi si ritorna a quel punto è sempre arrivato molto brevemente di meglio perché io so che tra le vostre diciamo proposte c'è la digitalizzazione la formazione e la sburocratizzazione dico bene? anche loro certo però mi permetta di precisare sono d'accordo che la scuola deve dare l'educazione digitale però se non c'è la partecipazione della famiglia la scuola non ce la può fare possiamo delegare tutto alla scuola l'educazione stradale perché si fanno gli incidenti l'educazione sessuale perché i genitori non la fanno cioè il problema è che la grande assente secondo me è proprio la famiglia è lì che dobbiamo operare tocco di meglio su un tema che so che è molto sensibile scuola e autonomia differenziata di meglio che succederà? ma mi auguro che non succeda nulla che il Parlamento faccia una riflessione perché secondo me abbiamo già il problema di una scuola che va a due velocità e cioè dobbiamo intervenire per far sì che tutti i nostri bambini i nostri ragazzi abbiano l'uguaglianza delle opportunità e quindi differenziare ancora di più soprattutto in un momento storico in cui le risorse di questo paese non sono grandi significa portare ulteriori danno alla scuola e soprattutto danneggiare i più deboli io penso che invece la scuola sia anche uno strumento importante per mantenere una certa unità di questo paese che troppo spesso è messa in questione per la grande questione del mezzogiorno e così via cioè la scuola deve rendere più uguali possibili i nostri cittadini non differenziarli ulteriormente a seconda della ricchezza o della povertà di una regione in cui si nasce certo scotto questo governo sulla scuola aspetta che sta facendo dal suo punto di vista nulla taglia risorse come ha fatto nell'ultima legge di bilancio lo ha fatto anche sulla sanità portando portando livello di spesa pro capite sulla salute al di sotto della media europea dopo tre anni che eravamo andati sopra il 7% col disegno di autonomia differenziata condanna questo paese a non avere più diritti universali per tutti se io nasco a Torino piuttosto che se io nasco a Palermo perché quando tocchi scuola e sanità significa che è un paese spaccato in due o in tre è un disegno gravissimo vede che cosa mi colpisce di questo governo al netto è la retorica e che alla fine va a battere sempre contro le persone più fragili e di oggi la notizia che il decreto ministeriale 45 2023 della ministra del lavoro Calderone taglia di quasi il 50% il fondo per le famiglie delle vittime sul lavoro in un paese in cui muoiono 5 persone di lavoro al giorno è un fatto di una gravità inaudita è un esempio di cinismo insopportabile sentiamo la replica perché stiamo per terminare io non pensavo che adesso l'onorevole Scotto facesse parte della compagine di governo perché l'ha chiesto cosa fa il governo e lui ha spiegato cosa sta facendo il governo ci ha spiegato qual è la sua posizione non cosa sta facendo il governo il governo sta facendo ben altre cose ma voglio partire dal tema che ci occupa voglio dire una parola intanto su questi ragazzi che in questo momento stanno affrontando questa prova importante intanto un saluto particolare ai ragazzi delle zone alluvionate perché questo stress test si aggiunge allo stress test precedente importante perché a mio avviso questo esame di maturità ormai è diventato soltanto uno stress test perché uno stress test perché questi ragazzi già prima fanno i test per entrare all'università non c'è collegamento c'è il voto non vedo bocciatura agli esami di maturità e quindi serve soltanto come elemento di tensione un modello obsoleto che va cambiato che va cambiato noi dobbiamo andare verso questa direzione promuovere una cultura scolastica dentro un paese che ne ha già tanto e che gode ancora di una scuola tra le più importanti al mondo perché la scuola italiana è una scuola importante grazie a un corpo docente non soltanto preparato e qualificato ma che ha una grande passione per il suo lavoro forse sono sottopagati e là forse l'onorevole Scotto può essere d'accordo con me bisognerebbe fare se lo sottopagate bisognerebbe fare un'iniziativa per pagare meglio medici per pagare medici e per pagare insegnanti per pagare medici e per pagare insegnanti che vanno all'estero scusatemi no fatemi dire di meglio un tweet finale a proposito proprio di questo aspetto che evidenziava l'onorevole Romano gli insegnanti italiani sono i più sottopagati non solo dell'Europa ma anche rispetto al pubblico impiego italiano rispetto a un impiegato l'insegnante prende mediamente al mese 300 euro di differenza negativa questo è il problema serio che abbiamo quindi occorre che finalmente un governo prima o poi si decida a investire seriamente anche sul trattamento dei docenti sono certo che lo farà ecco le prendiamo come buone queste sue parole perché ci si riempie la bocca la scuola l'istruzione la formazione lo diceva la dottoressa Manfuso ci sono due elementi che tengono in piedi questo paese la scuola e la famiglia questo governo lavora per sostenere scuola famiglia io aggiungo imprese il 94% del nostro tessuto economico è fatto di piccole e medie imprese e il 96% di queste sono imprese familiari familiari quindi ritorna il tema della famiglia perché riteniamo sia centrale la prima cellula della nostra società che va aiutata e sostenuta per fare in modo che alcune strutture che oggi vediamo e che sono state citate in questa trasmissione perché sono delle vere e proprie strutture quando un ragazzo alza la voce addirittura devo interrompere Romano perché sono in ritardissimo prego scusi e allora Francesco Magnani pronto prontissimo buongiorno Andrea l'incontro bilaterale ieri all'Eliseo tra Giorgia Meloni e Emmanuel Macron pace ritrovata tra Parigi e Roma e ancora le commemorazioni in senato a Silvio Berlusconi a cui si sono astenuti i parlamentari senatori del Movimento 5 Stelle e ancora la riforma della giustizia partiremo da qui con i nostri ospiti Massimo Nava Corriere della Sera per tanti anni corrispondente da Parigi Federico Geremica della Stampa Anna Cinzia Bonfrisco ero parlamentare della Lega e ancora Francesco Borgonovo vice direttore della Verità Pier Francesco Maiorino capo dei democratici al Consiglio regionale della Lombardia e poi entreremo nel merito visto che oggi è il primo giorno di estate sui temi collegati alle vacanze e l'inflazione ci aspetta l'estate più cara di sempre ne parleremo con Alessandro Cecchi Paone Deborah Bergamini Matteo Ricci sindaco di Pesaro poi infine ci viene a trovare il giurista Sabino Cassese con cui cercheremo di decrittare le parole di ieri di Sergio Mattarella sulla giustizia fiscale garantita dalla Guardia di Finanza e i punti più controversi della riforma nordio questo e tanto altro tra poco all'aria che ti restate grazie allora chiudo dando una notizia l'altro giorno a Pechino c'è stato il segretario di stato americano Blinken sembrava che qualcosa si rasserenasse nei rapporti tra questi due superpotenze stamattina da Pechino si fa sapere che i giudizi espressi dal presidente Biden che ha apostrofato Xi Jinping come un dittatore sono giudizi assurdi e irresponsabili e questo tanto per capire il clima che resta molto teso tra Cina e Stati Uniti grazie Arturo Scotto grazie a Sara Manfuso grazie a Sadia Biraghi grazie a Savero Romano grazie a Rino Di Meglio vi lascio alla retina noi siamo qui domani grazie